Gli operai non hanno fatto in tempo a posare il primo modulo della nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste a Lanciano che subito si è accesa la discussione sulla correttezza del lavoro eseguito. Chi dice che le diagonali di colore bianco non sono allineate, chi si mostra più possibilista dicendo di voler attendere di vedere il lavoro finito. Dall'amministrazione comunale invece nessun dubbio, il sopralluogo con il direttore dei lavori, l'architetto Giuseppe Di Giacomo, ha spazzato via le ipotesi più catastrofiche, la realizzazione rispetta il disegno del progetto. Il vice sindaco Giacinto Verna. Sì a questa domanda io posso rispondere con sicurezza che il disegno della presentosa che già da venerdì è stato messo in un primo blocco all'inizio di Corso Trento e Trieste corrisponde in maniera integrale a quello che è il progetto presentato alla cittadinanza già qualche anno fa. A conferma di questo posso dire che sia venerdì che oggi insieme all'assessore Pasquale Sasso ci siamo confrontati anche con il direttore dei lavori il quale ha confermato che stiamo, o meglio che la ditta che sta realizzando questa importante opera per la città di Lanciano sta lavorando, rispettando, lo ribadisco, il progetto. Il lavoro prosegue in questi giorni con la posa delle mattonelle più scure agli incroci. La prossima settimana riprenderà la posa dei moduli con un ritmo di 28 metri ogni 10 giorni. Il cronoprogramma sarà aggiornato a mano a mano. L'obiettivo è rispettare la consegna del primo blocco per metà giugno e avviare nel frattempo il secondo che scende verso piazza Plebiscito per ammirare la maggior parte della nuova pavimentazione presentosa alle feste di settembre.